Un'inedita conferenza stampa a cena nel ristorante tipico Il Patriarca, all'ombra della cattedrale di Bitonto, ha acceso i riflettori sulla tappa conclusiva di Girolio d'Italia 2013, che si terrà nella città del Barese, patria dell'olio di oliva extravergine, da domani a domenica. Il viaggio organizzato dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio nelle regioni Olivetate dell'Ustivale si conclude dunque a Bitonto, scelta quest'anno fra le 32 città pugliesi socie. La candidatura è stata presentata dall'assessore comunale all'agricoltura Domenico Incantalupo a maggio scorso, in Lizza con altre concorrenti regionali eccellenti. La severa commissione dell'Associazione Città dell'Olio ha fatto i suoi sopralluoghi e ha scelto Bitonto premiando così la qualità del suo oro verde, la bellezza del suo patrimonio artistico e la capacità di marketing territoriale del suo assessore Rino Mangini, che ha scelto il GAL Fior d'Olivi come braccio operativo per l'organizzazione della tappa. C'è la tappa finale del Giro d'Italia, c'è la tappa finale del progetto MP Med Diet sulla dieta mediterranea e c'è l'ultima assemblea annuale dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio in attesa del ventesimo compleanno di questa associazione. Per tre giorni la città di Bitonto diventa il cuore della valorizzazione e della promozione dell'olio extravergine di oliva attraverso una serie di eventi. Promuovere solo il territorio o solo il prodotto non è utile, bisogna assolutamente abbinare le due cose e in questa maniera, esperienza anche di altri centri ce lo dimostrano, si riesce a raggiungere l'obiettivo. Domani, da tre giorni, si apre con un convegno al Teatro Traetta sullo stile di vita della dieta mediterranea con un focus sul ruolo della donna. Sabato 21 dicembre, poi, i rappresentanti istituzionali di tutte le 14 tappe si riuniranno a Palazzo di Città per la cerimonia istituzionale di passaggio di tappa, al termine della quale la madrina dell'evento bitontino, la cantante atleta paralimpica Annalisa Minetti, consegnerà una pianta di olivo alle sette scuole elementari della città. Domenica la festa finale che animerà il centro di Bitonto con i colori e i sapori mediterranei, cooking show e corsi con le donne del territorio sulla cucina casalinga, aziende olearie aperte ai visitatori, itinerari del gusto, aperitivi e shopping all'insegna dell'olio nuovo e menu a tema nei ristoranti bidontini.